Ehi! Ehi, oh oh... La cucina sta scogliendo... E noi! Amore, questo sta appoggiato a cucinetta! Eh, da sopra, sotto al vaso! No ma non c'è a rinuncio! L'on c'è arrivata a presa a scatto! Sposta il vaso! No la cucinetta arriva dopo! Amore, sei quelli trappigneri, eh! No, picchia la Linus, sai guarda nei due lavori, qui di là, è una cazzatura. Mi stima che io sono la Linus. Ho appoggiato da fare così, qui sotto a crapparmi il cuore. Ma qui è un po' più l'opera che... Un po' la sciacchia fangata questa cosa. E' un'opera che... E' un po'. 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 Sto provando della tua famiglia. E' un po' la visione. Tira, c'è un po'. Tira, c'è un po'. Tira, c'è un po'. Tira, 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 che hai tutte le mani impegnate. Con le coste, con le coste. E' un po' che fanno la scatola di Dio. A Skype, 12 euro al mese per 3 anni che hanno 40 pollici. Già ho fatto! Riggi la lese, riggi la lese. Così! Così! Già ho fatto! Si piatta? 40 pollici. 16 euro al mese. 55. Al mese? 25 al mese col pacchetto. No, con 7 piscali. Paola, che poco? 16 euro al mese. 40 pollici. 40 pollici. Oh, funziona la televisione. E' la scalla A? Sì, è già fatto! Sì, è già fatto! Sì, è già fatto!